Obiettivo rientro a scuola in sicurezza. Giovedì 6 gennaio la Regione Marche organizza una giornata dedicata ai tamponi per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado di tutto il suolo regionale. In vista del rientro alle lezioni dopo le festività natalizie la Regione ha predisposto dei punti tamponi dedicati a tutti quei ragazzi che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto sospetto con un positivo. Tutto questo gratuitamente e senza prenotazione. Come giunta abbiamo voluto fortemente organizzare un appuntamento di screening per i giovani studenti ha detto il presidente Francesco Acquaroli per garantire al meglio un rientro in classe in sicurezza dopo le festività. Intendo per questo ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per offrire alla popolazione marchigiana e ai ragazzi stessi questa opportunità e tutto il personale sanitario che da quasi due anni è in prima fila nella lotta alla pandemia. L'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ha precisato che verranno utilizzati tamponi antigenici di ultima generazione che hanno la stessa affidabilità di quelli molecolari. Nel nostro territorio quello della provincia di Pesaro e Urbino area vasta 1 vedrà coinvolto il Codma di via Campanella a Rosciano di Fano attivo dalle ore 8 alle ore 14 a Pesaro nella zona della sede della protezione civile in via Lombardia 7 e a Urbino in via Sasso 70. In questi ultimi due luoghi l'appuntamento è dalle ore 8 e 30 alle ore 14. Tutti gli altri punti vaccinali del territorio regionale sono disponibili sul sito occhioadanotizia.it www.sd.info.it.info.it.